Che partita? L'Ocambolesca è proprio successo davvero di tutto. Beh, da dove vogliamo partire? Siamo dal brutto primo tempo del Gubbio e poi passiamo al secondo tempo. Si fa fatica a fare... Oggi sono andate oltre quelle sono le possibilità e giocare in questo modo si fa fatica. Fino a quando la squadra non è il completo si fa fatica a dare un equilibrio al gruppo, un equilibrio alla squadra. Primo tempo abbiamo preso un'imbarcata ma poteva essere una situazione anche abbastanza a rischio e poteva succedere. Il secondo tempo è stata una grandissima reazione la squadra ha giocato, si è scrollata di dosso un po' di paure fino all'espulsione. L'arbitro non ha avuto lo stesso metro di giudizio e alla fine si è perso. Anche con Pecchia non ha avuto lo stesso metro di giudizio cosa è successo nel momento dell'allontanamento dal campo? Perché c'era sul sbaffo l'ammunizione ha tirato la maglia, c'era una ripartenza nostra non c'è stata l'ammunizione successivamente sull'area di rigore in area di rigore la maglia è tirata di Ciofani e ho perso la testa ci sta che in una situazione del genere ha voluto prendere una decisione a mio avviso esagerata perché era tutto nella norma questa reazione niente di sproporzionato. Come strano i calci, mister è un gran primo tempo dell'ascolo e poi cosa è successo all'ascolo? È successo che noi siamo rilassati abbiamo beccato l'individualismo siamo stati un po' troppo superficiali mi hanno fatto abbastanza arrabbiare quindi domani poi ne parleremo perché non si può far rientrare in partita una scuola come il Gumpio che gioca la prima partita in casa con tutto il supporto del pubblico che la spinge fino all'ultimo secondo e quindi noi sul 2-0 dovevamo essere meno leziosi potevamo anche fare il terzo ma quantomeno non dovevamo assolutamente far rientrare il Gumpio in partita invece purtroppo è successo quindi dobbiamo crescere sotto questo aspetto qui nella gestione delle partite.